Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo video sempre in Puglia Ormai ho preso la residenza, passano cani, passano persone, tutto meraviglioso Allora oggi ho un video particolare, tra l'altro l'ultimo in Puglia perché tornerò a Roma lunedì Quindi tra qualche giorno, martedì sarò già in radio e poi vi parlerò comunque di molti altri progetti Ma per questo dovete aspettare la prossima settimana Non vi ho citato a caso la radio perché qualche giorno fa, a martedì, dato che il martedì sono sempre appunto in puntata Ho fatto un collegamento telefonico proprio qui dalla Puglia in cui si è parlato tanto di Roma-Genoa e del derby Che sarà appunto la partita clou del weekend, oltre a Juve-Napoli Prima di cominciare, se volete darvi una rinfrescata ovviamente a tutta la giornata di campionato Vi ricordo di passare da OneFootball che è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio Potete essere aggiornati sul calciomercato perché ci sono gli ultimi giorni Su appunto risultati in tempo reale e non solo, quindi tanta tanta roba Vi lascio il link per scaricarla qui sotto in descrizione e non devo spiegarvi di certo io al di là di tutto che cos'è OneFootball Immagino la conosciate un po' tutti Tra l'altro salutiamo anche la foto di gruppo meravigliosa che è proprio tempismo perfetto Ma noi siamo qui anche con una certa enfasi non indifferente Ma tornando a noi, come vi dicevo, ho fatto questo collegamento telefonico in cui si è parlato tanto di Roma-Genoa, tanto del derby E a proposito di derby che si giocherà domenica alle ore 18 La domanda che mi ha fatto PF è stata una secca Come faresti giocare tu la Roma domenica se fossi Fonseca? Ora, non sono Fonseca mai nella vita, infatti io su questo ci rimarco tanto Non sono mai al suo posto, è facile parlare non essendo poi nei panni di una persona Però dall'alto della mia inesperienza e dall'alto del mio non essere allenatore Ho dato le mie chicche, le mie idee e vi lascio un piccolo estratto della puntata appunto di Roma-Crew Fatemi sapere ovviamente qui sotto come fareste giocare voi la Roma nel derby E ovviamente fatemi sapere anche le altre cose che emergeranno nell'estratto che tra pochissimo ascolterete Detto questo io vi saluto con questa vista meravigliosa Ci vediamo prossima settimana con nuovi video Vi lascio all'estratto, commentino qui sotto, like, iscrivetevi Se non lo siete ancora, vi ricordo OneFootball, un bacione Never give up e bella rega Nel frattempo vediamo se siamo riusciti a stabilire il contatto col buon Bomberino Buonasera Bomberino Buonasera a voi Era il telefono mio Senti immagino che tu comunque sia anche se distante abbia potuto vedere la prima di campionato della nostra Magica Roma Che cosa ne pensi? Qual è la tua idea rispetto a questa partita? E in generale anche un po' la gestione da parte dell'allenatore e l'atteggiamento poi dei singoli? Allora, beh, alla fine mi hai chiesto di tutto Ti dico che mi sono fatto un'idea E l'idea è che quest'anno se si sistemano alcune cose ci divertiamo La Roma gioca a pallone È imprevedibile quando costruisce rispetto alle ultime due stagioni E questo perché Fonseca rispetto a Di Francesco e lo stesso Ranieri Si concentra molto di più sul gioco offensivo Ciò non vuol dire però tralasciare completamente la fase difensiva Ora, è ovvio che indipendentemente dagli errori dei singoli Il reparto va coperto di più Forse non ci sono le caratteristiche adatte Ma forse al tempo stesso non basterebbe un centrale Non voglio essere troppo negativo perché la Roma parte per tornare in Champions League Eh già E quindi bisogna anche capire che il 3-3 con Genoa non è la fine del mondo Qualche errore difensivo perché Iphazio e Jesus ci può stare Però io preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno Sono molto, diciamo, d'accordo con Rudy Zlatan Pensiero Tra l'altro che saluto che troveremo anche lui martedì prossimo Meglio magari doppare la prima e capire che ci sono effettivamente dei problemi Piuttosto che vince a mani basse e dire Ah lo vedi alla fine il centrale non serve no? Perché tanto se vince uguale Io sono d'accordissimo con Zlatan anche perché mi è venuto in mente Quando ho letto quel messaggio lo scorso campionato Adesso sembra da banale parlarne Però tu a Torino l'anno scorso la prima giornata vinci 1-0 Con un Kevin Strothman che gioca ma non si vede E quindi questo ti fa pensare Vabbè lo vendo tanto non mi serve In maniera molto stupida e banale E certo E io ti cito Strothman perché Perché torniamo a quel discorso lì Al di là del centrale Domenica non ha giocato un certo Jordan Veretout Che può essere comunque quel calciatore Oltre al difensore centrale Barra difensori centrali Che dia una mano alla difesa Che faccia un po' da film Lo sai su chi punto tantissimo io? Su Diavara Anche Perché Eh infatti perché come incontrista Secondo me Diavara è il migliore Indipendentemente dai centrali O comunque il centrale di difesa Il centrocampo ha un ruolo importantissimo E chi meglio di noi lo sa L'anno scorso abbiamo fatto un campionato In cui ne abbiamo parlato ogni martedì e ogni giovedì Senti invece Per quanto riguarda il clima derby Dai così ci entriamo anche noi La Lazio invece va a Sampdoria E vince 3 a 0 Tra l'altro A mia grande sorpresa Perché mi aspettavo un po' di più Dalla Sampdoria Che magari farà un bel campionato Perché adesso Con tutti i problemi che ha mostrato Di Francesco Nella Roma In un anno e mezzo Comunque tanto bene aveva fatto al Sassuolo E credo che farà bene anche alla Sampdoria Diamogli tempo Però comunque la Lazio non ha cambiato Rispetto alla Roma per esempio Adesso siamo in clima derby Quindi facciamo questo tipo di confronto La Lazio ha cambiato pochissimo Non ha cambiato allenatore Ma guarda La domanda che mi faccio io Scusa se ti interrompo Ma la domanda che mi faccio io è questa Se il fratello di Inzaghi Ogni anno ottiene il massimo con il minimo Ma perché noi non riusciamo a fare questa cosa? Beh perché Molto dipende dal contesto Da... Guarda è un discorso più mentale che altro Qui dalla nostra parte del tema E viene sempre più gonfiato tutto In positivo e negativo E forse è stata proprio questa la... Insomma la differenza Il gonfiare tutto noi E quindi creare un'aspettativa E poi di base Restare sempre delusi Perché se parti con la grande aspettativa Hai soltanto da perdere Dalla parte opposta invece Non c'è niente da perdere Quindi boom Va parti e prendi quello che c'è Ti dico se a livello di formazione A livello di calciatori Perché il modulo ovviamente è questo E io non lo andrei a toccare Se tu cambieresti qualcosa rispetto alla prima del campionato Qualcosina probabilmente sì Nel senso che Proprio per il discorso che facevo poco fa E quindi una Lazio più pronta Una Lazio che se la gioca in casa Sicuramente dal mio punto di vista Proverà a far di più Proverà a partire più aggressiva Metterei una formazione Un po' più coperta Magari facendo partire titolare Zappacosta Che negli ultimi minuti della partita col Genoa Il campo ha visto E quindi potrebbe giocare lì Al posto di un Florenzi Che schiererai alto Magari al posto di Kluivert Perché a quel punto Tu hai un giocatore pronto Parlo di Florenzi In alto Un giocatore che Difensivamente Lascia sempre qualcosina Ma che comunque ho visto benissimo Carichissimo E in momenti segniamo il gol del secolo Contro il Genoa Alla prima del campionato Quindi Potrebbe essere Una soluzione Chi sarà l'arma in più della Roma Secondo te? Magari proprio Florenzi Ecco Che al primo derby Giocato da capitano Segna un gol bellissimo al volo Ma la prima stagione da capitano Potrebbe magari Trovare il primo gol in campionato Chissà Magari quello decisivo Adesso Sogniamo un po' Però sarebbe bello Anche perché arrivato con il Genoa Fa una gran partita Quindi un gol nel derby Sarebbe sicuramente interessante Diciamo che i pianeti Sono ben allineati Quindi questo è il momento Va bene Grazie Fede Tanto poi Questa partita qui L'andrai ad analizzare tu Perché appunto Tornerai martedì Dalle 18 Alle 19 Noi le mandiamo Un abbraccio grande Quanto la Puglia Ma affettuoso Quanto la capitale Quindi Ti aspettiamo qui presto Fede Arrivo Arriverò prestissimo Buona serata ragazzi Ciao Ciao Ciao